Potrebbero essere vaccinati già a fine marzo a conclusione della somministrazione delle dosi anti-Covid agli over 80 i cosiddetti soggetti fragili. A garantirlo l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco aggiungendo che per gli altri servizi essenziali che vanno dall'amministrazione giudiziaria sino alle telecomunicazioni stiamo quantificando i soggetti da immunizzare in maniera da programmare un calendario sulla scorta di quelle che saranno le dosi previste in consegna e così sono oltre 269.000 le dosi dei vaccini inoculate nella nostra regione su una dotazione complessiva di 388.225, il 69,3% secondo i dati del Ministero della Salute. Intanto partirà nelle prossime ore la vaccinazione per farmacisti, odontoiatri, medici di medicina generale e tutti gli altri operatori delle professioni sanitarie. La dose sarà somministrata all'oncologico di Bari secondo il calendario concordato con i singoli ordini professionali e proprio i medici di base di FIMGE, FISMU, CISL denunciano il perdurare, dicono, della incapacità da parte dell'ASL Bari di garantire un numero adeguato di slot per l'esecuzione dei tamponi per Covid-19 a seguito della prenotazione seguita dai medici di medicina generale. Secondo le due organizzazioni, in provincia di Bari le liste di attesa per l'esecuzione dei tamponi sono ancora troppo lunghe.